Il Partito Democratico, prima all'opposizione del governo giallo-verde e poi passato alla guida del governo giallo-rosso, è oggi insieme con altre forze politiche in un grande schieramento di unità nazionale a sostegno del governo Draghi. Nel giorno dell'Assemblea del PD e del nuovo segretario Enrico Letta, si interroga anche in provincia di Brescia e in Valle Camonica sul futuro del partito scosso nell'animo dalle dimissioni di Zingaretti. Ci ha lasciato abbastanza, anzi molto esterefatti la scelta di Zingaretti, indipendentemente da chi l'ha votato o non votato, oggi Zingaretti poteva contare su un partito unito. Un partito unito, cioè l'unione delle forze riformiste che guardano al futuro, alla sostenibilità all'Europa, è ciò di cui ha bisogno il PD per ripartire. Per noi è di innovazione e felice del PD come partito che riesce a mettere insieme tutte le forze riformiste e progressiste che guardano al futuro una transizione energetica sostenibile del nostro paese, che guardano un futuro europeo, guardano all'attenzione alle famiglie, alle persone che hanno più difficoltà, alle disabilità, alle persone che oggi sono in ricerca del lavoro. Tutti questi temi hanno bisogno di un partito democratico unito, una guida forte. Al PD non serve un nuovo segretario, ma un nuovo partito, ha affermato Enrico Letta, aprendo così la porta ai circoli, ai delegati, ai territori. La Vallecca Monica ha trasmesso all'Assemblea Nazionale, alla Segreteria Regionale e Provinciale la richiesta di rimettere al centro temi come il lavoro, la paretà di genere, la difesa delle persone fragili, la sanità. Letta è atteso da un lavoro importante, è un lavoro che avrà bisogno di tutti. Ci siamo scambiati proprio con lui perché ci conosciamo da tanti anni, un messaggio di bocca al lupo e lui ha risposto e questo per me era un segnale che era intenzionato a accettare con un grazie. Ci sentiamo e credo che il Partito Democratico sotto la sua guida, ma chiaramente non è l'uomo solo al comando, con tutti insieme vada recuperate le ragioni per cui i territori possono essere oggi protagonisti. Mi auguro che si possa ripartire per dare un contributo al governo Draghi nell'interesse dell'Italia, ma con le nostre idee, con i nostri uomini, con le nostre donne.